Venerdì 16 febbraio, alle ore 21, al Teatro Comunale di Mesagna, la Manovella presenta Disegnare con le parole, reading artistico, dei versi del poeta siriano, Nizar Cabani, voci narranti, Bennavit Bey, voce dei Radio Dervish, e Massimo Colazzo, ambientazioni sonore e installazioni video, a cura di Carlo Mazzotta. Per informazioni, chiamate il 347-616-9824 Oppure scrivetta associazionemanovella.gmail.com Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo!